Ciao a tutti, oggi parliamo di una delle regine della tv italiana, Barbara D'Urso. Dopo anni di successo su Mediaset, il suo allontanamento ha lasciato tutti con una domanda, che fine ha fatto? Vediamo insieme quali sono stati i suoi ultimi movimenti, se ci sono progetti futuri in ballo, e cosa si dice su di lei a livello di gossip e flirt. Barbara D'Urso è stata per anni uno dei volti più amati e discussi di Mediaset, conducendo programmi di punta come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Tuttavia, nel 2023, la rete ha deciso di ridurre il suo spazio televisivo e, alla fine, non le ha rinnovato il contratto. Questo ha generato molto scalpore. I motivi ufficiali non sono mai stati del tutto chiari, ma si è parlato di scelte strategiche da parte di Mediaset per rinnovare il palinsesto e puntare su nuovi volti. Nonostante questo, Barbara è rimasta una figura di grande interesse mediatico. Subito dopo il suo allontanamento, Barbara non si è fatta vedere troppo sul piccolo schermo. Ha però continuato ad essere molto attiva sui social media, dove interagisce con i fan e condivide momenti della sua vita quotidiana. Si è anche dedicata ad alcuni progetti teatrali, dimostrando che il suo amore per lo spettacolo va oltre la tv. Le voci di un possibile ritorno su altre reti non si sono mai spente, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Negli ultimi anni, Barbara è stata al centro di alcuni gossip legati alla sua vita sentimentale, nonostante le indiscrezioni su vari flirt, non ha mai confermato ufficialmente una relazione stabile. I paparazzi continuano a seguirla, ma lei sembra sempre molto riservata sulla sua vita privata. Ci sono stati rumors su frequentazioni con uomini più giovani, ma Barbara ha sempre mantenuto un certo riservo, e per il futuro? Ci sono voci su un possibile ritorno in tv, magari su altre reti come Rai o Discovery. Barbara ha sempre dimostrato di essere una donna combattiva e probabilmente non resterà lontana dalle telecamere a lungo. Inoltre, continua a esplorare nuove opportunità, come la produzione di contenuti digitali e collaborazioni con marchi. Barbara D'Urso potrebbe non essere più un volto quotidiano della televisione italiana, ma la sua carriera è tutt'altro che finita. Continua ad essere una figura influente e amata dal suo pubblico. Cosa ne pensate? Tornerà presto in tv o continuerà a dedicarsi a nuovi progetti? Fatemelo sapere nei commenti.